buongiorno secondo cassetto della mia amata cassettiera del bagno la apriamo svuoto tutto e sistemiamo insieme qui col cassetto sistemato io sono molto molto soddisfatta qui ho utilizzato quello che abbiamo tolto precedentemente dal cassetto di ieri ossia questo contenitore qua anch'esso di ikea anch'esso lo hanno tolto mannaggia loro ormai sono già passati forse quasi tre annetti da quando li hanno tolti qui dentro ho messo tutti i miei asciugamani da viso ma quelli piccolini avete visto che anche in uno degli ultimi vlog che ero stata da ikea vi ho fatto vedere come ho preso degli asciugamani da ospite nascono così io questi qua li trovo comodissimi per quando mi lavo il viso perché può capitare delle volte che magari struccandomi ho ancora del fondotinta non tolto bene quindi preferisco utilizzare questi poi gli altri asciugamani quelli più grossi li utilizzo per le mani mi trovo benissimo mi sembra che un paio con due asciugavanetti venga tipo 2 euro sono anche tutto sommato molto molto validi qui ho messo i miei dischetti quelli in cotone per struccarmi questi qua sono di lidl mi trovo divinamente fascetta fiocco che in realtà non uso quasi mai mentre invece qui dietro ho messo queste altre lavette qua sempre di ikea queste qua sono quelle che trovate nel reparto bimbi e le ho messe dietro perché queste qua le utilizzo un po meno può capitare delle volte se ho tutti gli asciugamani a lavare o se sono brutte giornate e quindi so che danno per tanti giorni brutto tempo per le mani utilizzo questi qua in realtà ne ho altre però devo andarle a prendere di là dove dove le riposte per andarla metterli dietro quindi il cassetto di oggi è stato organizzato sono molto soddisfatta noi ci vediamo domani col terzo cassetto ciao 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 ciao